Assessore La Porta, sono disponibili i bandi dal 9 dicembre scorso per le botteghe che verranno realizzate al porto turistico di Agropoli. Vogliamo spiegare ai telespettatori di Cilento Channel come l'iter. Il bando è visibile presso il sito istituzionale del Comune, è un bando per l'affidamento. Voglio chiarire innanzitutto questo aspetto perché parecchi fanno confusione per la costruzione dei locali. In questa fase ci sta l'affidamento in sub-congestione, esente dell'articolo 45 bis del codice della navigazione, in cui si affidano 8 botteghe commerciali di varie tipologie. Le botteghe sono più volte state un po' pubblicizzate, ma in questo momento è la fase finale. Chiunque voglia partecipare con i richiusiti di carattere generale può venire presso gli uffici comunali, prendere visione del progetto e poi a di tempo fino al 30 di gennaio 2015 per la presentazione dell'offerta. L'offerta è articolata in questo modo. Innanzitutto il soggetto che voglia partecipare deve avere i requisiti di carattere generali. A questi requisiti può partecipare ad ogni singolo lotto che si caratterizzano nelle seguenti tipologie. Vi sta la tipologia per locali commerciali, settore abbigliamento, tipologia locale commerciale per settore natanti e accessori, tipologia locale commerciale per articoli sportivi, pesca in particolare. Poi abbiamo un locale per l'edicola, un locale per prodotti tipici per uso alimentare, poi abbiamo altri locali per la somministrazione di asporto per prodotti alimentari, poi abbiamo un bar e poi abbiamo un bellissimo locale che verrà utilizzato per ristorante, pizzeria, pub. Insieme a questi locali ci sono una serie di locali che il Comune gestirà in proprio, che saranno i servizi, i docce, i bagni, la famosa marina che verrà integrata già dagli attuali servizi che sono presenti nell'ambito portuale, ma con questa opera noi definitivamente porteremo sul porto di Agropoli la famosa marina che da tempo i diportisti ci richiedono e con la realizzazione di questo investimento riusciremo a fare. Per il resto diciamo che ci sarà una bellissima passeggiata al coperto che verrà utilizzata da tutti i cittadini, non sarà data in assegnazione nessun spazio pubblico al di fuori di quelli che sono previsti nel bando per l'assegnazione dei singoli lotti. La consegna il Comune si è riservato 12 mesi, ma noi punteremo sicuramente a realizzarli molto prima. La gara non appena ci sarà l'interessamento di coloro che vogliono acquisire l'infrastruttura, si passerà subito alla giudica della gara d'appalto per realizzare i lavori, i quali tempi saranno nei 180 giorni l'impresa che si aggiudicherà i lavori, consegnerà l'opera e subito verrà data in consegna ai proprietari che sono affidatari della subconcessione. Oltre al bando di affidamento delle botteghe al porto c'è anche il bando per gli ormeggi al porto turistico? Sì, quest'anno è scaduto il triennio 2011-2014, ci sono manifesti pubblici per tutta la città, anche sul sito istituzionale vi è presenza di come fare la domanda e sarà di nuovo affidata l'assegnazione del posto barca presso i pontili comunali.